Andiamo per la dodicesima giornata di regione d'andata ad affrontare l'APL. La squadra di Gordesi viene da due sconfitte consecutive dopo una striscia di 12 e è considerata a ragione una delle squadre che dovrebbero lottare fino in fondo per la vittoria del campionato. Chiarini è il miglior marcatore della squadra, ma anche Rubini e Lobiondo sono giocatori molto importanti come Pagani e Diuf sotto le planche e hanno anche il campo che mi ha formato l'anno scorso. Il grande fattore per loro quando giocavano in casa è il campo del Palamacchia dove sempre fra 2.500 e 3.000 persone vanno a sostenerli. Sono una squadra che vuole andare a colpire nei suoi vantaggi, quindi nei giochetti atletici, nella capacità del loro numero 4, Lobiondo, di uscire e tirare fuori dai tre punti e nella qualità degli esterni, come Rubini e Laganà, di attaccare il ferro. Come abbiamo detto la settimana scorsa, l'idea è andare a giocare possesso dopo possesso e giocare una partita secondo le regole su cui stiamo lavorando e abbiamo lavorato. Buona partita!